Queen Victoria, ripetizioni d'inglese per ragazzi di scuole medie e superiori anche via Skype. Traduzioni professionali, inglese-italiano, italiano-inglese e altre lingue. Servizi linguistici per la scuola e per l'azienda. Un accesso veloce alla giustizia. Si può sintetizzare così lo scopo della Camera di Mediazione inaugurata sabato a Portoferrae, operativa già da ieri, 14 ottobre. La mediazione è un sistema alternativo di risoluzione delle controversie rispetto al ricorso alla giustizia ordinaria. I professionisti che opereranno all'interno del nuovo ufficio sono Michele Mazzarri, Giovanna Bacci e Fausto Martorella. Dal 20 settembre 2013 la mediazione civile è tornata obbligatoria, una legge che interessa tutti quanti i cittadini. La SEC2R è un organismo autorizzato al Ministero della Giustizia, è scritto al numero 185, si occupa di mediazione e formazione di mediatori da circa tre anni. Abbiamo trovato qui a Portoferrae e su Isola d'Elba degli interlocutori che deteniamo validi e che hanno dei titoli specifici per gestire le controversie di mediazione. Nei signori che ci accompagneranno in questa avventura siamo molto contenti. Sono garantite risposte in ambiti diversi che vanno dalle successioni ereditarie alle controversie familiari, comprese le separazioni coniugali, le locazioni, le controversie sui confini e le usucapioni, le diffamazioni a mezzo stampa, i contratti assicurativi e finanziari, le controversie aziendali, i risarcimento medici, il condominio e in generale tutti i diritti cosiddetti reali. Altro vantaggio della Camera di mediazione riguarda i costi che partendo da 48,40 euro, si incrementeranno al valore della controversia attraverso una tabella compensi stabilita dal Ministero di Grazia e Giustizia, la possibilità di detrarre in sede di dichiarazione dei redditi tale spese, l'esecutività immediata dell'accordo se controfirmato dai rispettivi avvocati, i tempi massimi stabiliti in non oltre quattro mesi e la gratuità del primo incontro.